Buongiorno a tutti voi ragazzi, è giusto per ritornare al video di ieri che parecchi, molti mi hanno scritto ma gli otto minuti di recupero sono stati dati per il rigore eccetera 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 Ragazzi miei belli, ragazzi miei belli, ricordatevi che nel primo tempo sono stati concessi altri quattro minuti di recupero in Napoli-Roma, ok? Di cosa vogliamo parlare? Se poi vi volete far bruciare il culetto, ti ripeto, io preferivo che vinceva il Napoli per la Champions League Ok? Ma se in quegli otto minuti riferiti a Juventus-Bologna, che la gente mi ha insultato inutilmente mi ha insultato inutilmente perché l'albitro aveva concesso otto minuti di recupero in Juventus-Bologna, voi non avete neanche idea di quello che è successo in Juventus-Bologna A orologio, solo per andare a vedere quell'intervento fuori aria, ci hanno messo sei minuti la VAR L'espulsione di Sumarou, che ci ha messo per lasciare in campo due minuti di orologio e già fanno otto L'espulsione a Medel, con le sceneggiate, le spinte, eccetera, eccetera, eccetera Quattro giocatori del Bologna con i crampi, con i crampi Ok? Poi cinque sostituzioni della Juve e tre sostituzioni del Bologna Non so se mi spiega Il mio otto minuti di recupero era riferito a chi dice che la Juve ruba, che era stata favorita con il Bologna Mi dite ieri, l'otto minuti, Napoli-Roma, se avesse segnato la Roma, se avesse segnato la Roma Lo Juventino cosa dovrebbe dire, visto che la Roma si portava a meno due Dai, ditemelo nei commenti Sapientoni, Napoli-Roma, quattro minuti il primo tempo di recupero E otto Sono dodici minuti Sono dodici minuti Buona giornata